I candidati sindaci della destra hanno tenuto e tengono delle posizioni molto ambigue su questioni cruciali come i vaccini, il Green Pass, le restrizioni, soprattutto quello che attiene alla pandemia. Lei ha l'impressione che abbia pesato in questo voto delle amministrative, in questa ambiguità? Secondo me sì, ha pesato moltissimo perché i cittadini italiani si sono resi conto di quanto il problema della gestione della pandemia sia stato importante, importante non solo per la sicurezza dal punto di vista sanitario ma anche per la ripresa economica, per il lavoro, per la scuola, quindi per la ripresa sociale in generale. E si è visto chiaramente quanto sia stato sbagliato l'approccio di una parte della destra nella gestione, quanti errori si sarebbero fatti se la gestione della pandemia fosse stata in mano di alcuni dei politici che abbiamo visto perdere, uscire parzialmente sconfitti da queste elezioni. E questo lo sottolinea, secondo me, molto bene il fatto che in controtendenza in Veneto la Lega è andata benissimo. La Lega ha ottenuto dei risultati incredibili nella regione Veneto e questo, benché Zaia dica che non esistono due leghe diverse, in realtà nella gestione della pandemia ci sono state due leghe diverse perché Zaia non ha gestito l'emergenza come l'ha gestita nel senso comunicata, perché Salvini non l'ha gestita, ma diciamo come l'ha comunicata Salvini. Ecco, Zaia è stato molto presente, molto attento, ha seguito la scienza, quindi ha avuto un approccio molto responsabile. E in Veneto infatti la Lega è andata molto bene, non è andata bene invece la Lega di Salvini, diciamolo chiaramente questo. Ecco, è così onorevole Calenda.